Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Non so davvero da dove partire, se devo tener conto di tutte le richieste che mi sono state fatte, allora parto da qualcosa che per molti potrebbe essere nuovo, quindi che si può aggiungere alle vostre conoscenze e cerco di inglobare un pochettino le richieste che mi sono pervenute in questi giorni. Allora, voglio proporvi l'EAS, che è l'acronimo per una metodologia, parliamo di metodologia didattica, quindi è l'acronimo di una metodologia ed in particolare EAS sta per Episodi di Apprendimento Situato. Lo scrivo, Episodi di Apprendimento Situato. Sotto il video trovate i link per relativi ad altri video, relativi ad altre metodologie didattiche e sicuramente con il passare del tempo troverete anche i commenti che spero possano essere utili per tutti voi perché la mia esortazione è sempre quella di integrare ciò che dico facendo uso anche dei vostri commenti che alcuni colleghi chiedono maggiori delle spiegazioni, delucidazioni, commentano, fanno obiezioni anche in maniera costruttiva. Altri colleghi vedo che fortunatamente implementano e vanno addirittura in maniera sinergica a creare nuovi contenuti scritti che sicuramente secondo me sono complementari a tutto il lavoro che avete fatto. Ovviamente non mi pongo come unica fonte del sapere ma il vedere i video da parte vostra, secondo me, cioè un vostro collega mi ha detto, mi ha ringraziato tanto per i video e mi dice li trovo molto utili anche insomma per come forma complementare allo studio che ho fatto. Altri magari mi dicono che stanno studiando solo sui miei video. Io guardate, se lo dico con tutta l'umiltà, a mio avviso fate molto bene a seguire dei libri, dei testi scritti e eventualmente a seguire anche i miei video. Per coloro che fanno leva solo sui miei video, siccome tutto il programma non può essere trattato, ancora non è stato trattato tutto il programma comune e a maggior ragione non sono stati troccati tutti i programmi di ogni classe di concorso. Allora vi dico, io vi ringrazio per la stima, magari per la fiducia che avete riposto in me, però al tempo stesso vi esorto a muovervi anche con... Ma l'ho sentito in tutti i video, io vi propongo sempre dei testi di riferimento, vi do dei rimandi a... Per esempio vi dico sempre andatevi a vedere le prove del concorso 2016, vi rimando a determinate metodologie didattiche, tante cose le potete trovare in questo canale, altre non so, magari potete trovarle in testi, in altri canali, su internet. Insomma, io in questo senso sono felice di essere solo una persona che concorre a dare un valore aggiunto senza pensare di sostituirmi a niente. Insomma, non credo che ad oggi tutto quello che è stato trattato possa essere esaustivo per la preparazione del concorso. Lo so, può essere vista un'autocritica, ma avendo io preparato il concorso in prima persona, avendo poi preparato altri docenti, avendo io effettuato diversi concorsi, lo ricordo, quello del TFA su materia, io sono ingegnere meccanico e l'ho fatto per la 042, poi il concorso docenti del 2016, poi il TFA sul sostegno, sempre come concorso, e poi l'altro concorso per fare ricerca all'università. Quindi, ovviamente, sono stato sicuramente bravo, io dico sicuramente anche in parte fortunato, perché ho tanti colleghi, ho tanti amici, secondo me, che erano bravi almeno quanto me, e purtroppo non hanno vinto il concorso. E quindi, insomma, secondo me, superare il concorso vedrete che dipende da tanti fattori. Poi potrete dire che c'entra la fortuna, e io vi dico guarda c'entra, perché ad esempio già avere una commissione di docenti piuttosto che un'altra può essere assolutamente decisivo relativamente alla valutazione che otterrete. Tutte queste remesse che non scrivo sono parimenti importanti a tutto quello che scriverò, perché, insomma, vi danno anche una linea, un qualcosa di riferimento, cioè vi danno un'idea di quello che vi appresterete a fare. Quindi, siccome spesso queste cose nei libri non vengono dette, ritengo opportuno, insomma, dirle almeno verbalmente. Allora, ritornando all'EAS, essa è articolata in tre fasi. Nella prima fase, cioè una fase, allora, la prima fase è preparatoria. Poi, la seconda è operativa. La terza è ristrutturativa. Il tre l'ho messo da un'altra parte, lo rimetto. Ristrutturativa. Potete trovare dei riferimenti bibliografici relativi al professor Pier Cesare Rivoltella. In queste fasi vengono individuate sia le azioni del docente che quelle delle studenti. Quindi, vengono individuate le azioni che riguardano il docente e lo studente. E vengono, determinate, queste azioni vengono ricollegate ad una logica didattica. Sì, scriviamo logica didattica. Tutto questo, tutto ciò, è basato sulla progettazione accurata della lezione, progettazione della lezione, anche detto lesson plan, nella quale vengono proposte agli studenti esperienze di apprendimento situato e significativo. Quindi, proposte di esperienze significative che hanno una direzionalità e portano alla realizzazione di artefatti digitali favorendo una approvazione personale dei contenuti. Quindi, vanno verso la realizzazione di artefatti digitali. Cerco di inserire, quindi all'interno di questa metodologia didattica, peraltro penso poco conosciuta, le varie richieste che mi sono state fatte. Quindi, oggi voglio fare qualcosa un pochettino diverso, in cui all'interno della stessa slide cerco di inserire più questioni. Mi avete detto, Francesco o professore, c'è chi mi chiama Francesco, c'è chi mi chiama professore, potete chiamarmi come vi piace di più, di parlare anche della gestione della classe, ma in particolare della gestione della classe e della didattica per le disabilità. Allora, io come prima risposta vi dico, non c'è, non esiste un'unica didattica. Allora, non esiste una didattica universale per IBES, purtroppo. Quindi, per questo, ho temporeggiato a rispondere a questa richiesta, perché mi era stata fatta da tanto, e prendo come spunto un'altra richiesta, che è più o meno la seguente. Professore, ma siccome è un qualcosa che uscita, non so se è proprio uscito nel concorso straordinario, o se è uscito nel 2016, ma, per esempio, che cosa si può fare relativamente in un caso di ipoacusia? Ecco, già questa è una domanda a cui vi posso venire incontro meglio, perché nei IBES ci stanno tutti i deficit, tutti i disagi, tutte le psicopatologie, quindi non esiste in realtà una didattica per tutti, ma esiste una didattica mirata, ad esempio, se mi chiedete ipoacusia, io vi dico una didattica per disabilità sensoriale. e nello specifico ipoacusia, che tra l'altro colpisce già un 5% degli studenti, quindi non è che stiamo parlando di un caso estremamente particolare o poco probabile. Ovviamente il deficit uditivo viene valutato in maniera sperimentale, può essere lieve, con perdita tra 20 e 40 decibel, medio, se si perdono tra i 40 e i 70 decibel, grave, profondo, questo da un punto di vista, insomma, anche della diagnosi, ripeto, circa il 5% della popolazione mondiale, ma anche della popolazione italiana, presenta una perdita uditiva superiore ai 40 decibel, e quindi di chi si parla relativamente alle disabilità sensoriali, ovviamente agli audiolesi, o per chi soffre di ipoacusia, se non addirittura di sordità. Poi, sappiate che la produzione verbale di chi ha ipoacusia non è compromessa, anche se vi era un pregiudizio, perché solitamente chi ha sofferto, o chi soffre di ipoacusia, ha anche difficoltà nella produzione verbale. In realtà i sordi hanno difficoltà a gestire i suoni in uscita per via della funzione di controllo che esercita l'orecchio, perché il nostro orecchio è un elemento anche di continuo feedback. E poi, la sordità aggiunge anche la perdita di importanti informazioni sonore che un bambino udente acquisisce spontaneamente negli anni decisivi per lo sviluppo del linguaggio. E quindi, ecco perché spesso, per chi soffre di ipoacusia, si nota, sicuramente magari si ricorre all'opopetista e si riscontrano anche difficoltà nella produzione verbale. Ma, in realtà, l'organo che viene colpito è quello dell'udito, insomma, dell'orecchio. Le note ministeriali sono sicuramente il decreto ministeriale del 5 febbraio del 1992 del Ministero della Salute che precisa che insomma la sordità non porta a una definitiva compromissione dello sviluppo del linguaggio verbale ma a una condizione di acquisizione non spontanea che rende determinati di intervento logopedico un approccio educativo di tipo olistico quindi che comprenda un pochettino tutto lo studente nel suo insieme e un ambiente comunicativo accessibile al bambino sordo allora c'è tutta una parte storica che io vi vorrei saltare vorrei saltare tutta la parte che riguarda insomma le famiglie cioè scusate se mi sto prendendo una pausa ma sto riflettendo su cosa dire e cosa non dire cioè relativamente per esempio i metodi educativi che riguardano soprattutto le famiglie quindi su quello su dove vengono orientate le famiglie per su indicazione dei terapisti quindi i metodi il metodo oralismo oralista il metodo mimico gestuale il metodo bimodale bilinguismo il metodo audio psicofonologico eccetera eccetera anche se ad esempio la lingua dei segni eccetera eccetera sto pensando ecco perché di sicuro noi non è che come docenti ci possiamo imparare tutto però ecco vi posso dire vi posso dire per esempio del ecco scusate che sono in diretta e sto pensando anche ad altavoce ok allora vi parlo di c'è una risposta che secondo me potreste dare è quella di motivare lo studente all'uso regolare di due lingue ma non due lingue una italiana una straniera ovviamente della lingua italiana e della lingua italiana dei segni quindi sempre lingua italiana dei segni che rappresenta il modo in cui il bambino sordo potrà rispondere a una verità di bisogni questo serve ovviamente per sviluppare potenzialità cognitive acquisite conoscenze nel mondo comunicare in maniera soddisfacente il bilisguismo in realtà è ritenuta una scelta naturale ed ecologica per l'educazione al linguaggio del bambino sordo in quanto tiene conto delle sue reali capacità e potenzialità quindi la scuola in questo caso dovrebbe deve offrire questa opportunità poi sarà il bambino crescendo che deciderà ovviamente quali delle due lingue utilizzare è opportuno quindi ricordare che il bambino sordo non va questo è importante lo dico il sordo non va giudicato in base alle competenze sull'utilizzo dell'italiano è opportuno ovviamente valutare le competenze cognitive e linguistiche prescindendo da eventuali difficoltà con la lingua parlata non è automaticamente più o meno intelligente di chi parla male o di chi parla bene poi vi posso dire che ci sono anche degli istituti delle scuole importanti dei riferimenti dei centri per esempio l'istituto per sordi di roma in via nomentana il cingolo e circolo didattico di costato in provincia di biella qui per esempio sono presenti assistenti alla comunicazione utenti sordi interpreti lis quindi della lingua italiana dei segni insegnanti curricolari molti dei quali hanno frequentato corsi lis io direi che con questo abbiamo fatto un piccolo passo in avanti relativamente alle richieste che sono pervenute ovviamente tanti commenti hanno trovato anche una risposta scritta sempre da parte mia quindi io sto attivamente anche interagendo con voi cioè in maniera fattiva e in maniera diretta quindi i commenti sono cioè cerco per ora sono riuscito a rispondere a tutte le richieste sui commenti e ovviamente sto proseguendo nella creazione ormai la creazione è già stata fatta più che altro al portare avanti questo progetto di insomma di tanti video utili per coloro che si preparano al concorso per coloro che già insegnano per tutti quelli che insomma amano la cultura la scuola e il sapere la conoscenza io con questo vi ringrazio e in bocca al lupo a tutti i colleghi che domani faranno il concorso parteciperanno al concorso e insomma alla prossima buona continuazione di giornata grazie a tutti